ben trovati alla terza puntata del nostro focus sull'università di palermo dopo avere ascoltato il presidente dell'ersu il pro rettore alla vita studentesca adesso abbiamo il magnifico rettore massimo midiri che ringraziamo per aver accolto il nostro invito rettore lo chiamiamo rettore o professore di dire cambia poco cambia poco va bene professore lei è stato eletto a fine del 2021 quindi c'è ancora di tutto il sessennato fino al 27 quindi diciamo neanche siamo arrivati al giro di boa ovviamente però un anno e mezzo penso non è certo tempo di bilanci ma possiamo come dire cominciare a capire cosa abbiamo fatto ma soprattutto cosa faremo nel senso che penso che ci siano dei cantieri aperti possiamo fare brevemente alcuni punti su questi 18 mesi di rettorato midiri professore certamente innanzitutto buonasera a tutti i nostri telespettatori mi fa piacere poter parlare già a distanza di 16 e 7 mesi di mandato su quello che è stato realizzato e quello che abbiamo intenzione di realizzare nel sessennato sicuramente il primo punto a cui siamo partiti è stato quello di sprovincializzare l'università di palermo cioè abbiamo ritenuto che palermo abbia una dimensione assolutamente europea che debba sfruttare al massimo la sua posizione geopolitica al centro del mediterraneo e che debba cambiare fortemente i suoi connotati nel senso che purtroppo i latene del sud sono stati considerati negli ultimi anni come dei diplomifici e non come delle research university cosa che ne ha inevitabilmente compromesso il livello di appeal non è strano quindi immaginare come i ragazzi pensino che l'università di palermo possa essere utile per una prima fase della loro formazione faccio riferimento alle lauree triennali e che invece poi si debbano spendere per le lauree magistrali che rappresentano l'ultimo miglio di collegamento tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro fuori questo ha comportato e comporta una continua emorregia di ragazzi che non avendo quindi quella pille di università che deve spingere molto sulla ricerca poi cerca la propria possibilità di sistemazione di competenza fuori da palermo quindi abbiamo fatto un'operazione di investimento e di posizionamento di palermo nell'ambito del PNRR molto importante che ha portato a palermo qualcosa porterà a palermo perché poi il tutto avverrà in un triennio sino al 26 qualcosa come 141 milioni di euro evidentemente questi 141 milioni di euro legati al fatto che palermo è diventato lab di un centro nazionale delle ricerche come la biodiversità o che sia capofila di un partenariato esteso sulla medicina di precisione porterà evidentemente una innovazione in diversi settori che poi sono trasversali perché non è che abbiamo soltanto medicina di precisione quindi significa interessi soltanto i medici interessi in realtà ampie fette della popolazione accademica o quando si parla di biodiversità parliamo di un settore che riguarda l'ambiente l'ecologia il mare il cielo la terra quindi chiaramente competenze veramente molto trasversali questo è stato il primo punto da cui siamo partiti e ci siamo riusciti perché adesso palermo ha una dignità in chiave di ricerca di tutto rispetto nel senso che anche gli altri atenei ci riconoscono quella superiorità gestionale organizzativa che è fondamentale l'altra cosa fondamentale è stata dare ancora una volta perché poi il mio punto di riferimento sono sempre quello che mi raccontano i ragazzi cioè i ragazzi dicono palermo manca di due cose manca di servizi e manca di un'offerta formativa adeguata ai tempi quindi abbiamo cominciato a cambiare anche l'offerta formativa chiedendo molto nella trasformazione agli stakeholder locali gli stakeholder sono imprenditori sono le imprese le imprese ci hanno detto non ci serve soltanto un ragazzo che sappia ci serve un ragazzo che sappia e sappia il saper fare cioè esca dall'università con delle competenze specifiche che poi sono utili e sfruttabili nel mondo del lavoro il giorno dopo per la laurea operativo subito esatto quindi il concetto è stato quello di dare un messaggio forte alle famiglie palermitane che se si viene a palermo non si prende soltanto un pezzo di carta ma diventa un pezzo di carta sfruttabile con le imprese questo l'abbiamo realizzato con un'operazione anche economicamente sostenibile perché abbiamo già messo da parte un milione di euro per far fare i tirocini pre laurea quindi siamo dentro ancora l'albio dell'università dentro l'impresa per un periodo non inferiore a tre quattro mesi il che significa che il ragazzo testa le sue capacità quello che ha imparato dentro un'azienda e noi speriamo che l'azienda poi fidelizzi il ragazzo e quindi poi gli crei una condizione di occupazione immediata nel post laurea quindi questo dovrebbe essere un freno un blocco un tentativo di blocco perché il fenomeno evidentemente ha tante connotati non soltanto universitari per cercare di evitare che il ragazzo poi finisca in un'altra dimensione universitaria che poi comporta uno spostamento di economia perché poi al nord è noto il problema del caro affitti cioè alla fine lo stipendio preso in università che genera un lavoro nell'interland per esempio lombardo crea uno stipendio di un mille e 1200 euro al mese che poi servono quasi del tutto a trovarsi un affitto certo diciamo sono due punti a quanto pare che dovrebbero detta così come dire far cambiare passo all'ultima all'ultimo dato che è arrivato da brussel penso che lo conosca in questa banca dati che hanno aggiornato del 2022 dove risulta la sicilia la regione con meno laureati possibili certamente quindi voglio dire indirettamente abbiamo dato anche la motivazione il perché voglio dire escono meno laureati sotto certi aspetti certo la motivazione è un po particolare perché in realtà dentro questo dato c'è anche il fatto che molti ragazzi non arrivano alla conclusione degli studi cioè in realtà entrano nel sistema universitario e poi per un problema complesso che riguarda il cambio di passo che avviene tra scuola e università poi si perdono per strada cioè un corso di laurea tante incognite anche qui se abbiamo lavorato molto in quest'anno e mezzo su quello che è il supporto psicologico ai ragazzi abbiamo aumentato la forza di fuoco dei psicologi che sono quello che si chiama il cot il centro universitario di orientamento tutorato e abbiamo aperto degli sportelli perché i ragazzi devono sapere che anche a palermo c'è attenzione ai loro problemi e abbiamo un personale ultra specializzato sono gli psicologi che sanno fare bene il loro lavoro che gli consigliano gli aiutano anche per problemi che spesso sono di fragilità oggi ci confrontiamo con una dimensione di ragazzi che hanno vissuto il covid che hanno vissuto un isolamento forzoso che hanno un problema economico delle famiglie insomma i problemi sono veramente tanti no di questo le devono dare atto mi scusi l'interrompo anche perché usciamo fuori il binario che lei ha nominato un suo collaboratore il progettore alla vita studentessa che devo dire fino a oggi da cronista mi risulta molto attivo e che gli studenti hanno finora trovato un punto di riferimento che non è poco ritorniamo alla vita di un rettore che è complessa il professore inutile che stiamo qui in 20 minuti a narrarla e soprattutto quella di palermo dove è distaccata dalla realtà appunto industriale ed economica perché noi abbiamo due temi fondamentali uno l'abbiamo accennato la fuga dei ragazzi nel senso che non riescono a entrare e uscire dall'università poi c'è la cosiddetta fuga dei cervelli che sta cosa ancora non si riesce a scardinare dico perché una fuga dei cervelli già noi stiamo parlando di uno che ha superato tutto il percorso tortuoso o meno universitario poi si prende sta laurea però qui risulta che nel giro di poche ore già avvarcato lo stretto è chiaro che è un processo complesso però voglio dire c'è un futuro concreto che un futuro penso parliamo non meno di cinque dici anni ovviamente oppure continueremo secondo me ancora per decenni non lavorare in questa direzione perché molto spesso e concludo la domanda parliamo di internalizzazione delle università parliamo di rapporti e di protocolli d'intesa con università internazionali però nella sostanza se mi consente io da semplice cittadino vedo che un giovane laureato alla fine esce dall'università gira attorno e in un modo nell'altro è costretto a emigrare come si conciliano queste due cose dunque innanzitutto il concetto dell'internazionalizzazione concetto fondamentale perché non è soltanto il problema di creare i doppi titoli quindi titoli spendibili nelle due università che decidono di gemellarsi ma è proprio quello di dare una dimensione di lavoro che non è soltanto locale quindi questo ovviamente avviene attraverso una reputazione di ranking in cui Palermo ancora non si colloca bene questi sono processi lenti chiaro io spero di vedere l'effetto di questa politica che abbiamo introdotto da questi in questi mesi fra qualche tempo in questo momento Palermo si colloca abbastanza indietro nel ranking internazionale questo è già un primo dato il secondo dato è questo dell'apertura importante che abbiamo dato ai rapporti con i paesi trasfrontalieri del Mediterraneo quindi stiamo parlando di tutto l'asse che va dal Marocco sino all'Egitto dove esiste una componente molto importante di potenziale forza lavoro anche per la nostra economia locale che ha un problema enorme di competenze quindi già ci cominciano a chiedere di accedere alle nostre studi ai nostri laboratori alle nostre accademie ma hanno un problema economico molto importante quindi il problema è collegato a Palermo in questo momento col concetto di residenza l'ERSU fa benissimo il suo lavoro abbiamo un presidente splendido che anche quest'anno insieme al suo processore ha raggiunto il cento per cento delle porte disponibili ma è un problema che risolve la residenza dei locali quando abbiamo un problema di un investimento sull'estero quindi sulla componente straniere è chiaro che noi dobbiamo offrire delle residenze universitarie a questi ragazzi che possono quindi passare un periodo più o meno lungo della loro vita in una condizione economica sostenibile in questo senso abbiamo per esempio stiamo per trasformare l'Hotel de France che è una struttura vicinissima a Palazzo Steli la sede del rettorato per farla diventare una sede ci sono dei un albergo tra l'altro ha ospitato Freud per qualche settimana pure nell'ottocento nei primi del novecento per trasformarla proprio in una sede di residenza universitaria quindi questo già è un primo dato questo permette di avere poi quella affidabilità internazionale per cui le università straniere prendono poi anche i nostri ragazzi quindi diventa un meccanismo di scambio reciproco che dà ai nostri ragazzi la possibilità di frequentare Palermo ma in realtà poter passare un periodo anche qui di un anno di sei mesi a secondo quello che vogliono fare anche in posti straordinari abbiamo rapporti con la Francia abbiamo rapporti con il Belgio abbiamo rapporti con la Germania e stamattina proprio ho stabilito un rapporto di lavoro importante con la Cina dove abbiamo messo dentro un accordo internazionale con un'agenzia che controlla 25 università cinesi che hanno tutto l'interesse a mandarci importanti gruppi di ragazzi su tecnologie su scienze su economia e turismo e quindi nell'immediato futuro questo come si può sintetizzare per i profani mi consente per i profani il messaggio è si viene a Palermo con una proiezione chiaramente internazionale cioè il ragazzo sa che se viene a Palermo può avere la possibilità di gestire la propria attività universitaria e quindi anche un potenziale lavoro anche in un mercato europeo ed extraeuropeo e quindi dovremmo mettere il turbo anche per queste infrastrutture certamente perché se no il vero problema è un cantiere deve essere aperto come di solito in un anno e finire la chiusura fra 3-4 anni no ma questo ripeto speriamo le residenze di averle complete già entro l'anno io tra l'altro sto lavorando anche con altri enti in modo particolare con l'esercito per poter avere la possibilità di una trasformazione di una caserma che è una struttura straordinaria perché sono dei mini campus che possa diventare aule e alloggi esattamente no perché sono molti le strutture come l'esa meglio di me in italia sparse sono abbandonate di migliaia splendide strutture cioè non dico con poco ma anche con questo flusso di PNR si potrebbe fare qualcosa di... vogliamo un po' giocare un po' a gamba tesa professore lei penso che ogni tanto in campo l'avrà avuto qualche calcio allo spinco come si può dire... lei ascolta gli studenti prendo l'assess suo che dice io ascolto gli studenti ma proprio gli studenti ultimamente ma non solo voglio dire hanno sollevato una questione che annosa da tanti anni la questione degli esami e quindi dei concorsi ora è chiaro che il problema attenzione è nazionale non a caso l'ultima indagine che le conosce ha coinvolto regioni che vanno dalla Lombardia alla Sicilia certamente qui non è un problema di Palermo ma di certo noi abbiamo a che fare adesso con il magnifico rettore di Palermo ed è legittima la domanda che si pongono specializzanti professori e concorrenti molti dicono che si potrebbe iniziare con una mossa semplice i commissari a sorteggi ma è una cosa fattibile è una cosa utopica oppure dicono sempre devono portare avanti i dadi i famosi baronati cosa possiamo rispondere a questo a mio avviso tema molto importante per dare anche valenza e meritocrazia ad un Ateneo come quello di Palermo non c'è dubbio tra l'altro questo è stato uno dei momenti forse più critici del mandato che ho fatto dall'inizio della fine del 21 perché il problema dei concorsi è un problema enorme che poi si ribalta sulla fiducia che ha un ragazzo e sulla credibilità del sistema noi anche sull'onda di una importante indagine che ha coinvolto anche alcuni docenti di medicina sull'affidabilità di alcuni concorsi abbiamo introdotto unici mi permetto di dire unici in Italia un sistema di formazione di commissioni totalmente differente dal contesto del resto di Italia il primo elemento ho levato il membro interno quindi nelle commissioni che noi facciamo dentro l'università in questo momento non esiste nessun componente che appartiene all'università di Palermo primo elemento e questo già dà l'idea che non c'è quello che dà in qualche modo potenziali indicazioni su come deve andare a finire un concorso l'altra cosa che ho introdotto credetemi non senza qualche protesta è stato quello di fare un sorteggio fra dieci professori quindi in realtà quando si deve definire una commissione di un settore disciplinare bisogna mettere dentro dieci nomi e fra questi dieci nomi ne vengono estratti a sorteggio tre prima tutto questo non avveniva perché erano quattro componenti se ne devono sorteggiare tre per cui se uno voleva in qualche modo indirizzare diciamo una scelta in un certo modo non era affatto complicato oggi un dieci diventa evidentemente molto più difficile perché il calcolo probabilistico che vengono fuori combinazioni diciamo amicali è veramente quasi del tutto impossibile questa cosa devo dire che è stata all'inizio presa con un po' di diffidenza da molti colleghi oggi siamo arrivati a più di un anno di concorsi effettuati abbiamo fatto tantissimi concorsi per prima fascia per associati e per ricercatori devo dire che non c'è stato nessun incidente e devo dire che tra l'altro l'altro dato che mi piace ricordare noi abbiamo due modalità oggi per fare i concorsi l'articolo 18 e l'articolo 24 l'articolo 24 è una chiamata fra interni non è un concorso si sa già chi sono i partecipanti ecco noi abbiamo dato indicazione a tutti i direttori di dipartimento di fare delle programmazioni non chiamando per la prima fascia che per me sono gli ordinari quindi quelli che poi devono dare certo le indicazioni di guida di scuola soltanto con concorsi per aperti al mondo quindi può partecipare chiunque può vincere evidentemente chiunque quindi anche questo perimetro non è indifferente sotto certi aspetti assolutamente sì professore altri due punti uno sicuramente non si può parlare della venuta di ursula mondellare a palermo è sotto a febbraio però noi ci stiamo vedendo adesso penso che sarà stato un onore sia per tutta la città che ci ottenevo e questa è una curiosità diciamo da retroscenista giornalistico ma vero la lettera l'ha fatta scattare a prendere l'aereo la battuta in questa lettera sarà stato scritto qualcosa voglio dire che una lettera di un rettore non è quella di un semplice cittadino però certo la parola chiave se mi consente se si può dire qual è stato insomma la parola chiave è stata effettivamente è stata una lettera appassionata in cui ho chiesto alla presidente di tenere in considerazione di dare un messaggio forte a una popolazione che crede fortemente nel riscatto cioè alla fine quando io ho parlato di quella lettera della next generation you e ho detto presidente guardi questa next generation you e anche la sicilia e anche palermo è una città che ingiustamente è stata in tutti questi anni maltrattata vessata classificata in un certo modo la presidente mi risponde con piaciuta del tono e mi dice guardi c'è un passaggio che nodale io potrei prendere in considerazione la punta palermo però lei mi deve promettere che non mi fa trovare troppi politici ma mi riempie l'aula di studenti questo è stato il patto che ovviamente io ho accettato mi chiamo a costo zero ma anche un grande mio piacere vuol dispiacere di qualcun altro che non è stato che non è entrato perché non abbiamo potuto tenere la vita deve piangere qualcuno non è rimasto contento di questa di questa iniziativa però mi credo a vedere l'aula riempita di casacca azzurra perché per tutti gli studenti avevano questa casacca che è il segno di dell'appartenenza del dell'essere come gli americani parlo il to be proud ma noi lo dovremmo alimentare questo è un senso di evidente fortissimo lo dovremmo alimentare perché fa parte crea comunità io credo molto nel senso di comunità e vedere quell'aula dipinta d'azzurro con i colori della comunità europea ha veramente fatto ha fatto reso molto contenta la presidente che poi fatto non noto dopo la celebrazione ufficiale si è trattenuta con me con un gruppo di 30 dottori di ricerca dottorandi di ricerca in un modo assolutamente informale a parlare di ricerche di come la comunità europea può investire in sicilia per la comunità europea ripeto non sono state parole perché proprio a fine mese per qualche giorno scenderanno a palermo un chiaro segnale in chiaro segnale di continuità in questa operazione che la von der leyen ha voluto dare i componenti della commissione europea di ocean waters che è una delle più importanti commissioni europee che gestisce decine se non centinaia di milioni di euro di investimento sull'ambiente e fanno il congresso guarda caso nuovamente allo stelio e questo è molto interessante anche una notizia è un buono è una buona notizia un'ultima domanda in 30 secondi ma sto policlinico a chiare attira il rettore ma innanzitutto abbiamo un dato che è straordinariamente importante perché abbiamo ottenuto dopo tanti anni tentativi un finanziamento per il nuovo policlinico 648 milioni di euro sono una cifra assolutamente ragguardevole ci vorrà qualche anno non è un'operazione che si fa in un biennio in un triennio e probabilmente non riuscirà a vedere la conclusione dell'operazione però questo ha da la chiara contezza di essere riusciti a convincere il governo regionale ringrazio il presidente schifani per una sensibilità non dovuta e non scontata che ha ascoltato diciamo la preghiera di un rettore che guida anche un policlinico universitario soprattutto sollecitando fortemente la natura di formazione perché in realtà il nostro non è un ospedale col sia sia un ospedale in cui formiamo la tappa quale sarebbe ai fini canterabili adesso manca l'autorizzazione del ministero che però si ritiene praticamente scontata a quel punto poi parte parte la procedura di gara ah perfetto quindi speriamo entro l'anno di avviare il cantiere avviare il cantiere entro l'anno ecco d'accordo ma io fio il rettore noi la ringraziamo per avere raccolto il nostro invito proseguiamo con il nostro obiettivo di questo focus sull'università che merita sia perché è la fucina della futura i futuri manager della società ma anche perché è palermo che molto decantiamo nel cuore del mediterraneo potrebbe anche aprire come punto di riferimento il nostro ateneo siciliano grazie a voi grazie di talk sicilia e ci vediamo alla prossima puntata buonasera grazie